E' stato presentato questa mattina nell'aula consigliare del comune di Bellizzi il progetto Bella Città Intelligente. L'iniziativa mira ad avvicinare i cittadini all'amministrazione attraverso un'app gratuita, grazie alla quale sarà possibile accedere a numerosi servizi e segnalare agli uffici le problematiche riguardanti il territorio. Bellizzi is smart, mi piace questo slogan che vuole segnare un processo innovativo per la nostra comunità. Guardi, al di là del servizio che noi stiamo cercando di offrire alla nostra comunità, che sono circa 7.000 famiglie, 14.000 abitanti, che utilizzano i servizi della nostra città, è un modo anche per marcare uno spirito meridionalista. Non siamo secondi a nessuno, l'unità d'Italia si fa anche con i processi innovativi, con i comuni. E quindi come Comune del Mezzogiorno sono particolarmente contento, quindi senza demagogia e senza populismo. E perché mi piace che c'è una classe dirigente che si difende, cioè si difende ma rilancia. Possiamo raccontare nel dettaglio a che cosa servirà quest'app e che cosa farà? Allora, l'app prima di tutto è uno strumento che il cittadino può segnalare in tempo reale un disservizio, una cattiva educazione di qualche dipendente, c'è un certificato che arriva in ritardo, cioè le risposte del cittadino devono essere date immediate. E quindi con l'app il primo messaggio è quello della segnalazione all'ufficio dedicato del sindaco e ai responsabili preposti. In più, controllare la nettezza urbana, il ritiro che non viene effettuato, pagare la mensa, pagare il parcheggio, cioè una serie di servizi diffusi. Adesso, se sa meglio di me, pagare nella pubblica amministrazione è complicato. Con l'app, con la nostra Smart City, si riesce a pagare in tempo reale. È un'operazione, ecco, la città è intelligente, l'abbiamo detto, ma perché non farà perdere molto tempo alle persone. L'app è possibile scaricata sin da subito dagli store più classici, quindi dall'Apple Store piuttosto che Google Play. Basta digitare Bella Bellizzi. In questo modo si troverà in maniera abbastanza agevole l'applicazione. Bella è un acronimo, un gioco di parole con Bellizzi, ed è Bellizzi Easy Smart ed è nato questo progetto Bella proprio per valorizzare il territorio.